In Italia sono oltre 3 milioni le persone in povertà, di cui 630 mila sono sotto i 15 anni. Fra tutti coloro che chiedono aiuto per il cibo, evidenzia la Col di Retti, più di 1 su 5, il 23%, è un migrante che nel nostro paese non riesce a procurarsi da solo il pane quotidiano. Ma ci sono anche oltre 90 mila senza dimora, che vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina e quasi 34 mila disabili. La stragrande maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti, sottolinea l'associazione di categoria, lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri, che per vergogna prediligono questa forma di sostegno piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli. Contro questo fenomeno è cresciuta anche la solidarietà, che si è stesa dalle organizzazioni di volontariato, alle imprese, ai singoli cittadini, a partire dall'esperienza della spesa sospesa nei mercatini contadini di Campagna Amica, grazie alla quale sono stati raccolti e donati ai più bisognosi nel tempo oltre 10 milioni di chili di cibo. Si tratta, precisa col diretti, di prodotti alimentari di grande qualità, dalla pasta alla frutta e verdura, dall'olio extravergine alla carne e al pesce, dai salumi ai formaggi.